Per durare di questa pandemia il cambio repentino dei decreti legge che si può partire o non si può partire naturalmente ci disorienta noi e soprattutto anche il consumatore finale. Così si sentono gli operatori del turismo organizzato mentre gli spostamenti tra regioni italiane sono vietati per i viaggi all'estero a Pasqua l'ultima ordinanza firmata dal Ministro della Salute e Speranza in vigore fino al prossimo 6 aprile dispone tamponi in partenza, un periodo di quarantena di 5 giorni e di nuovo test molecolare o antigenico perché arriva o rientra in Italia anche dai paesi dell'Unione Europea. Come dire una situazione caotica che ha scatenato diverse polemiche. In molti si recano presso le agenzie di viaggio chiedendo informazioni ma le prenotazioni latitano. Purtroppo non ci sono prenotazioni assolutamente. Comunque dobbiamo dire che i viaggi all'estero dal maggio del 2020 comunque sono consentiti nei paesi europei e questa disposizione chiaramente è una polemica che va a penalizzare il nostro settore. Turismo organizzato che spera nell'estate a questo punto per una ripresa? Sì, sicuramente le previsioni oramai dicono che alla fine di maggio dovremmo aver raggiunto il momento di ripartenza e quindi dalla metà di giugno pensiamo di fare una stagione, diciamo tornare nella seminormalità. È chiaro che i numeri che si raggiungevano nel 2019 non prima del 2022. A questa situazione generale si aggiunge il boom delle crociere dove si può partire senza troppe restrizioni perché lì si creerebbe una vera e propria bolla. Perché per esperienza fatta a bordo c'è un'applicazione di protocolli rigidi che permettono secondo noi la sicurezza per il passeggero. Sicurezza a bordo ma anche qualora si scendesse in maniera organizzata cosa accade? Allora, nei vari porti non si può scendere individualmente, bisogna per scendere partecipare a un'escursione organizzata dalla nave, dalla compagnia marittima e anche durante le escursioni non si può abbandonare o allontanarsi dal gruppo, altrimenti non si può neanche risalire a bordo. Addirittura? Addirittura. Chi sale a bordo, specifichiamolo, può farlo solo dopo aver fatto il tampone? Sì certo, bisogna fare il tampone attualmente 4 giorni prima, endro 4 giorni prima della partenza, poi al porto la compagnia fa un altro tampone sul posto proprio all'imbarco. Prima di imbarcare si attende la risposta dell'imbarco e poi ci si imbarca. Oltre alla crociera, altra meta definita un po' in maniera affrettata covid free, le Canari. Ci sono state due partenze per Pasqua dall'Italia del Nord, esattamente da Verona e da Milano-Malpensa, dove secondo le informazioni che ci pervengono sono stati pieni i voli.